Divertente per uno spettatore neutrale, sicuramente. Senz'altro la vorrò riguardare con molta attenzione. Sicuramente è stata un'ottima partita, giocata a ritmi elevati, dove c'è un po' di rammarico per il secondo tempo. Avremo meritato probabilmente il gol della vittoria, però nulla da togliere l'Atalanta, che ha fatto una grandissima partita. Gli ultimi 25 minuti del primo tempo ha fatto meglio di noi. Penso che c'è un po' di rammarico perché avremmo voluto regalare la vittoria ai nostri tifosi, però andiamo avanti, guardiamo. È stata una partita molto maschia, intensa. Penso che sia stato un bel vedere. Siamo in domanda dei colleghi. I colleghi chiedono se le diverse occasioni che ha avuto l'Atalanta sono merito dell'Atalanta, qualcosa su cui lavorare, o sono figlie del tipo di partita. Cioè un'Inter molto offensiva, poteva concedere degli spazi in cui i bergamaschi potevano infilarsi. Sì, penso da entrambe le parti ci sono state tante occasioni. Penso che sia stata una partita aperta, ci sono stati tanti capovolgimenti di fronte. E lì, come ho detto, soprattutto sul secondo gol, perché il primo è stato un euro-gol, e sul secondo potevamo fare più attenzione. Chiedono anche se nelle ultime due partite si sono visti momenti alterni di rendimento, momenti molto alti, altri un po' meno. È qualcosa su cui stai lavorando, su cui dovrai lavorare? Sì, chiaramente. C'è il rammarico per il risultato, però i ragazzi hanno combattuto fino al 95esimo in campo con una grandissima intensità, voglia, quindi non sono contento del risultato, ma secondo me abbiamo fatto una grandissima prestazione contro un'ottima squadra. E poi un'ultima, una curiosità, la rimessa da fondo, hanno notato i colleghi della Tribuna Stampa che un tempo era De Vrai che giocava con Andanovic, invece su lui sale e rimangono gli altri due terzini. Questo per dare meno vantaggio sulla pressione agli avversari? Questa la mossa è una casualità. Abbiamo diverse soluzioni. è normale che mettendo Andanovic in mezzo a bastoni e Skriniar abbiamo due giocatori di piede, un destro e un sinistro, mettendo De Vrai insieme a Skriniar, abbiamo due destri, ma stiamo cambiando tutte le volte a seconda della partita. Grazie. Grazie. Grazie.